Ciao papà, ma siete tutti connessi? Sì, stiamo giocando online. Dalla linea di casa nostra? È ultra veloce. This is a smart home. Ciao papà. Anche voi siete tutti connessi? Yes! È ultra veloce. Amore, siamo stati in base. Tesoro, siamo passati alla fibra di Tim. Navighiamo ultra veloci e abbiamo chiamate illimitate verso fissi e mobile. Ho quasi finito. Si è invitato tutta la vita del circolo. Tutte quante?